Venezia è magica perché devo dire che è emozionante fare una fiera qui dentro. Ringraziamo il Salone Nautico di Venezia per l'ospitalità che ci ha dato. I risultati del Salone per me sono stati un bel risultato. Abbiamo raggiunto molte visite su questa imbarcazione Tornato 45 che abbiamo esposto qui a Venezia. Un feedback positivo molto importante. C'è stato tanto interesse perché la barca è una barca sportiva, elegante, comoda, due cabine con bassi consumi ed è veramente una barca eccezionale. Abbiamo fatto più di qualche prova con dei clienti che hanno voluto provare l'imbarcazione. Ci siamo usciti con Montavoci, il campione di motonautica. Abbiamo fatto delle evoluzioni molto, molto particolari. Devo dire che la barca si è prestata molto. L'abbiamo portata veramente al massimo. Una bella navigazione. Da qualche anno stiamo allargando il nostro mercato in modo capillare. Siamo partiti con il Centro Sud e l'Adriatico. Il Centro Sud con Achille Filippone che è il nostro responsabile per quanto riguarda il Centro Sud Italia e con Alessandro Correggiari che è il nostro responsabile di tutto l'Adriatico. Con Alessandro Correggiari siamo arrivati qui a Venezia e abbiamo aperto l'Headquarter dell'Adriatico a Cervia dove abbiamo questo ufficio nel porto di Cervia dove i nostri clienti dell'Adriatico hanno un punto di riferimento. Vista la location incredibile e l'organizzazione impeccabile sicuramente la Tornado tornerà al Salone Nautico di Venezia perché l'interesse che ha suscitato la Tornado nei confronti dei buyers è stata veramente eccezionale quindi sicuramente torneremo a fare il Salone Nautico di Venezia. Alessandro Correggiari